Trema la chiesa campana per quello che si configura sempre di più come un vero e proprio scandalo a luci rosse, il giro di festini gay, rapporti omosessuali in canonica e abitudini sessuali particolari che coinvolgerebbe anche preti di diverse diocesi campane. A farlo scoppiare l'escort di professione di origine napoletana, Francesco Mangiacapra, che oltre al libro in cui racconta come è diventato amante di sacerdoti e politici, ora ha redatto anche un dossier di 1300 pagine e inviato la scorsa settimana alla Curia di Napoli. Un dossier in cui figurerebbero nomi, cognomi di preti campani con le loro abitudini sessuali, i luoghi, le situazioni, tutto documentato attraverso foto e screenshot di chat sui social e sui siti di incontri per gay. Insomma un vero e proprio terremoto che però in alcuni casi non sarebbe neppure del tutto sconosciuto alle autorità ecclesiastiche campane. A scioccare il fatto che tra la cinquantina di preti coinvolti in tutta Italia, 13 sarebbero della provincia di Salerno. Di questi circa la metà, cioè 7, che è anche il numero più alto registrato, apparterrebbe alla diocesi di Teggiano Policastro. E sui giornali già emerge qualche particolare. Ci sarebbe un sacerdote, il cui nome inizia con la P, che riceverebbe uomini in canonica e che avrebbe diversi profili su una chat gay. Di questo sacerdote ci sarebbero anche conversazioni virtuali compromettenti. Spunta anche il nome di Padre M della stessa diocesi, che farebbe pressioni per incontrare un monaco e che cercherebbe non solo incontri occasionali, ma anche impegni più seri. Nella diocesi di Tursi-Lago Negro invece sarebbero quattro i casi segnalati, tra i preti menzionati, quello di un paesino della Basilicata, che si recerebbe in Calabria per partecipare a feste da sballo in discoteca, e un altro giovane che non disdegnerebbe incontri di gruppo. In alcuni casi si parla anche di sesso a pagamento, però al momento è tutto da verificare. Più che di reati penali, si tratterebbe di violazioni alle norme della vita ecclesiastica, alla vocazione dei singoli sacerdoti, il che però mina la fiducia dei fedeli, facendo crollare un altro punto fermo. Il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha detto che attenderà che gli venga consegnato il dossier dalla curia napoletana e che poi vaglierà i singoli casi, applicando quanto previsto dalle disposizioni canoniche civili. Intanto, proprio oggi, pare che De Luca e anche il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, siano attesi in Vaticano per essere ascoltati dalla congregazione per il clero.